Ah, sto navigando! E sapete cosa sto facendo anche? Sto pulendo il mare! Come? Beh, grazie a Suzuki! Ora vi spiego! Il mare è bellissimo e ancora più bello è tenerlo pulito, ma come possiamo farlo con un motore? Questa è la risposta ecosostenibile di Suzuki. Il motore, per il suo raffreddamento, prende l'acqua da qui e la fa uscire da qui. Quindi, idea geniale è stata quella di mettere un filtro all'interno del circuito di raffreddamento che trattiene le microplastiche. Ed ecco come funziona! Acqua che arriva dal mare, filtro, acqua che esce e tutte le microplastiche rimangono qua dentro. Questa è una bellissima soluzione di Suzuki a un problema che esiste, ma ragazzi, ancora meglio sarebbe la plastica non buttarla in mare!